L'Ulss Bassanese della Pedemontana resta la vittoria di un territorio che non si è mai arreso guidato nella sua battaglia da Rete Veneta. Un appello corale a gran voce, ascoltato e recepito dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha dimostrato grande sensibilità per il Bassanese sia per il Tribunale che per l'Ulss. Oggi la conferma con il rinnovo delle Ulss e dei direttori generali, nove in tutta la regione. Una Ulss per provincia parte Vicenza e Venezia, in cui, ha sottolineato Zaia, esistono due province nelle province, il Bassanese appunto con l'unione delle Ulss 3 e 4 e il Veneto orientale nel caso di Venezia. Precisi compiti per il nuovo direttore generale Giorgio Roberti, che arriva dall'Ulss 9 di Treviso e sostituisce Fernando Antonio Compostella, che sarà trasferito all'Ulss di Rovigo. Curare bene i cittadini, abbattere le liste d'attesa, investire in tecnologie, nuove tecnologie, professionalità, restare il numero uno. Zaia ha così dimostrato di rappresentare concretamente il territorio con questa nomina che mantiene l'Ulss bassanese. Bassano e Bassanese ho voluto dare un segnale, il che non vuol dire che rinuncio alla Ulss provinciale, ma neanche non esiste che qualcuno vada a dire in giro che si chiude l'ospedale e che è in fase di smissione. Ci ho messo un direttore generale che arriva da Treviso a sette cliniche universitarie, ha un'esperienza eccezionale e darà ancora più vigore a Bassano. Confermando che nessun ospedale si toccherà. Ospedali in procinto di chiusura, in programmazione di chiusura, in Veneto non ce ne sono. Da qui ai prossimi cinque anni, finché ci sono io, non c'è nulla in previsione di chiusura. In attesa della riforma definitiva, Roberti guiderà dunque l'Ulss 3 e 4, reggendo la gestione di ospedali, il San Bassiano soprattutto, ma anche il nosocomio di Asiago e quello di Sant'Orso che intendono mantenere le eccellenze e migliorare sempre di più. Si tratta di due aziende che insieme raggiungono quasi 400.000 abitanti, quindi un bacino di utenza che è considerevole, con un territorio anche esteso e quindi credo che sia una dimensione ragguardevole per poter gestire bene e dare dei servizi di qualità. Chiari gli obiettivi del nuovo DG? Non abbassare la guardia, ma anzi cercare di migliorare dal punto di vista della qualità dei servizi. Zaia dunque ha prestato molta attenzione alle richieste del territorio e di Rete Veneta, dando precisi input a Roberti. Mi ha detto quindi di cercare di dare il maggior impulso possibile allo sviluppo delle tecnologie dell'ospedale e di coinvolgere molto i professionisti e di cercare di essere anche innovativo nei servizi da dare ai cittadini. Così Rete Veneta esprime la soddisfazione di tutto un territorio, ringraziando il presidente Zaia per l'attenzione che ha dimostrato.